Salve cari amici e cari amiche, gli eventi che si stanno susseguendo così velocemente sono così ricchi di simboli che è difficile non notarli neanche da parte di coloro che non sono pratici nel loro riconoscimento e proprio per questo ho pensato di condividere con voi alcune riflessioni in particolare legate a qualcosa che sta venendo in superficie in queste ultime ore ovvero la sacralità di Venere, la forza femminea di questo pianeta, dea, simbolo, archetipo che forse è il vero, la vera entità che ci conduce nel transito verso un nuovo mondo che ci auguriamo tutti sia migliore di quello che stiamo lasciando proprio per questo vorrei condividere con voi alcune cose appunto legate a Venere Venere, l'ishtar delle civiltà mesopotamiche duale con un volto maschile della luce del mattino demonizzato poi in una cultura occidentale pagana come forza luciferina ma al tempo stesso con l'altro volto, quello della luce della sera così forte di ciò che rimane del giorno, della luce, del sole che si sta affievolendo e che porta all'annuncio della notte che verrà una notte carica di riflessioni, quindi una divinità ponte una forza pianeta e dea che funge da passaggio tra il passato il giorno che sta morendo e il futuro, ovvero il giorno successivo, l'alba che rinasce e in particolare però vorrei soffermarmi sul simbolo Venere perché esso è veramente una risorsa, una risorsa che ognuno di noi ha noi maschi, femmine, abbiamo dentro una forza comunque Venerea ricca di questi due aspetti duali che però racchiudono l'essenza di Afrodite dell'amore, dell'amore incondizionato che ha una madre per il proprio figlio ma anche dell'amore incondizionato che ha un uomo per le proprie passioni d'arte l'amore, l'amore proprio senza nessun limite, l'amore puro e io da appassionata di movimenti eretici medievali tempo fa vi ho raccontato di una figura particolare dimenticata Marguerite Porret che nel suo scritto lo specchio delle anime semplici annientate rivela che amore Dia è l'amore individuale che ha abbandonato qualsiasi cosa terrena si è e ha annientato la propria anima spogliata la propria essenza di ogni cosa di superfluo fino a raggiungere proprio l'essenza divina specchio di se stessa, specchio della propria anima e pensate quindi l'essenza dell'amore venere che non è soltanto essenza sessuale ma è il punto di partenza per raggiungere il vero amore interiore ma non solo questo le Veneri, le Veneri del Neolitico quelle figure formose che sono state ritrovate in varie parti d'Europa e che ci raccontano la storia della venerazione di una grande madre generatrice madre di tutti gli esseri viventi che sovrintendeva al ciclo del tempo al cerchio del tempo, così distante dal concetto che abbiamo noi oggi di tempo lineare quella volontà così militare di rendere la nostra vita bidimensionale da A a B dalla nascita alla morte senza vedere che la morte è un'altra porta ed un passaggio verso altro in un mondo ciclico dove la sacralità di questo momento di passaggio la morte è assolutamente sacro sacro e inviolabile sacro e da rispettare perché è vissuto veramente come un passaggio tutto il resto è illusione è un'illusione che ci fa ricondurre costantemente all'errore binario ecco perché Venere Venere e Afrodite è importante in questo passaggio pensate che per le civiltà della Mesopotamia dovevano essere consultati astronomi che calcolassero molto bene il momento in cui Venere era visibile nel cielo prima di condurre battaglia perché l'esito della battaglia si doveva a lei quindi lei dava l'esito favorevole di un combattimento per questo venivano appunto consultati gli astronomi perché la battaglia avesse un esito positivo quindi questo questa essenza questa essenza femminea Ishtar Venere Afrodite la Turan degli Etruschi è un punto importante un momento di consapevolezza importante per ognuno di noi utile per questo delicato passaggio verso un mondo nuovo un mondo nuovo che non dovrà sottostare più agli errori del passato e dovrà veramente condurci verso una consapevolezza ciclica dove la grande Dea Madre Ananche necessità Madre a sua volta delle tre parche delle tre moire filatrici del destino sovrintende a tutti gli dèi e nessuna divinità dell'Olimpo può assolutamente competere con lei lei che è anche la Sacra Madre della musica celeste quindi delle grandi armonie del creato per questo che vi lascio con una riflessione o comunque un un augurio quello di ritrovare dentro noi questo spirito di Afrodite questo spirito di Venere che ci possa condurre verso una nuova rinascita un saluto a voi tutti e alla prossima